Siamo al Motor Show di Ginevra 2012 e siamo con il papà della Multipla, della Panda e della 500, Roberto Giolito che è responsabile del designer Fiat. Come vogliamo cominciare a raccontare questa nuova 500L? Innanzitutto nasce dalle prove che i designers fanno nel dimensionare una vettura, da creare la massima efficienza dello spazio, quindi una 500 versatile che non è semplicemente l'allargamento della berlina, della versione standard, ma diventa una vettura polivalente e empatica perché veramente reagisce con chi la usa in maniera molto fresca e spontanea. Le più grandi particolarità di questa macchina? Innanzitutto il muso corto perché così era in maniera assoluta la 600 Multipla del 1956, con questa vettura abbiamo voluto continuare quell'ispirazione, questa volta addirittura osservando gli standard di sicurezza sia nordamericani che europei, quindi due difficoltà in più per il team The Design che ha ragionato in termini proprio di compattezza dell'esterno e grandezza dell'abitacolo come efficienza, come ariosità. È stato davvero un onore poterti incontrare e poter sentire descritta questa tua nuova creatura da te. Grazie mille, è stata per me un'opportunità di raccontare il design, una vettura che spero che entri presto nella vita di tutte le persone che amano questo marchio e vogliono esplorare cose nuove.